Comunque, cari amici, questi sono i grandi lavori di concetto dell'ufficio Eventi. Io ho detto a Mario che organizziamoci perché non sarà una cosa comoda. Invece siamo qui, il sole sta già tramontando, c'è anche la neve, la gente sta andando a fare gli aperitivi e noi siamo qua. Io ricordo che lui è un programma inutile. Tra un'ora, inutile. Tra un'ora inutile e io invece devo andare a fare una cosa sempre più schifa perché sono i nostri amici e non ci fanno quelli di servizio. Però, vieni qua, quello che proprio ci acchiappa da lui. Che c'è un leggero schivello. Oltre lui, con la scusa di preparare un giorno, non parla con nessuno, io farò... Complimenti! Non mi è rimasta neanche la faccia d'anni. Come potete vedere questo è Skypass, la fiera del turismo e degli sport. Il dettaglio è dopo, soltanto dopo aver finito di montare questo video, io farò un grande trick col culo sotto questa grande parete. E mi metterò anche qualcosa che... Farai il successo. In modo... Magari adesso ho rovinato il loro lavoro di... Un metodo. Però mi metterò un tappetino così andrò alla velocità della luce contro quella singola trancenna. Quella c'era la... Dopo la Cumba... La S-Cicancenna... La trancenna S-Cicancenna. La trancenna S-Cicancenna... C'era il sole... E adesso calano le terebre sull'edizione 2010 dello Skypass. Ma noi siamo sempre qui. Vai, 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 vai. Ciacca, cazione. Fai come se non ci fossi Questi sono i grandi lavori di concetto dell'Ufficio Eventi Come vedete è inclinata una buffera di neve e pioggia E noi siamo qui Ma questo? Si ma fuori Questa è arrivata Iniziamo a lavorare o aspettiamo che stiamo avanti? Aspettiamo Che dicono che stiamo avanti ancora un po' Un saluto Dai che andiamo, metti via con l'affare Riprendi che questa la mandiamo a Rialtivi che troppo Si cado, troppo che cado Ragazzi la gente l'ha fatto con le corde Un saluto 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 Che bui Mi piace il mio pelo? Bella, bella Bella e brava Allora entro in guerra eh Allora entro in guerra eh Tanti05 Che ci vede la evi In guerra eh Hey Allora In barba alle norme della sicurezza stiamo salendo a tantissimi vetri e fra un po' ci sarà una polla se mai si stacca la cosa bella è che se avessi bisogno di aiuto aspetto dei minuti e dopo sali attento la testa vieni giù Elia allora tranquillo ora si vieni qua tu moriremo tutti è morto il tuo cuore scorghi prendila allora prendila perché se la sa manca allora aspetta testimonianze live on the video camera ribansci Mario inverno il sole stanco a letto presto se ne va non ce la fa più non ce la fa più la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me ma che freddo fa ma che freddo fa basterebbe una carezza per un cuore di ragazza forse allora si come il tambale orei cosa è la vita senza l'amore è solo un albero che il foglio non ha più è solo il vento un vento preso come le porte le speranze buttate giù ma in questo vita cos'è se non manca più sento una farfalla che sui fiori non vola più non vola più non vola più sono bruciato al cuoco detto grande a me che si è spinto già ma che freddo fa ma che freddo fa tu ragazzo mai delusa hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà cos'è la vita senza l'amore è solo un albero che il foglio non ha più è senza il vento un vento preso come le porte le speranze buttate giù ma in questo vita cos'è e manchi più non vola più che freddo fa mi dice che amici questi sono i grandi lavori di concetto dell'ufficio e venti cos'è la vita se ne manchi tu non vola più che freddo fa allora volevo semplicemente dire che Enzo farà questo mino qua vedete questo mino qua lui va viene con le fighe fa vedere le tette che freddo fa che freddo fa Grazie a tutti